la registrazione, attendiamo che si stabilizzi, eccoci qua, bentornati, bentornati, l'ospite lo vedete, bentrovato Luca Calbiati, ciao Luca! Buongiorno a tutti! Eccoci qua, allora, come ho già anticipato, questo è un format che già esiste, abbiamo voluto dare un po' spazio ai vari protagonisti dell'Ippica, soprattutto quelli che in questo momento stanno lavorando di meno, perché alcuni ad allenatori magari ha cambiato poco la vita, se non quella di non andare negli ippodromi, noi diciamo siamo un pochino più fermi, quindi volevo in qualche modo far un po' entrare nelle case degli nostri amici appassionati, un po' le storie dei protagonisti, tu sei indubbiamente uno di quelli, ti ringrazio per aver aderito e la prima domanda che ti faccio è come va, come sta andando? Bene, con pazienza, bene, l'altro giorno sono andato a fare una spesa con la lista della spesa della signora, ho preso tutto, poi ho comprato 20 kg di gelato, 42 torte, 57.000 Twix, Nutelle e compagnia bella, cosa devo fare? Eh ma di solito sei tu che fai la spesa? No, di solito lei, però almeno andiamo una volta, ogni dieci giorni andiamo una volta per uno. Ah ok, guarda io ti dico, mi sono messo la camicia perché onestamente è un mese che non ho altri capi di abbigliamento se non una tuta e ho detto vabbè fammi provare a vedere se almeno una camicia mi entra e devo dire la verità, mi sta un po' stretta e questo insomma è una cosa assolutamente brutta ma è inevitabile per certi versi, visto che non si può fare nemmeno sport. Senti, come stai, a parte gli scherzi, come stai occupando il tuo tempo? Dove sei innanzitutto geograficamente? Sei in Lombardia, no? Abito in un paese piccolissimo vicino a Milano, a 20 km da Milano e quindi non c'è neanche un, no, c'è solo un contagiato nel mio paese ma una persona che lavora in un ospedale, non mi ricordo se è un ospedale o una clinica privata, comunque uno che si occupa insomma di sanità pubblica. Comunque la situazione in Lombardia è veramente difficile, insomma ci arrivano sempre dati poco incoraggianti, però insomma si deve andare avanti, immagino che anche da te insomma la comunità sia tutta serrata, no? A domicilio forzato. Sì, assolutamente, questo comunque è un paese dormitorio per cui già c'era poca gente di solito in giro, adesso ancora di più. Però insomma qui in Lombardia che è cominciata prima di tutti, non è un caso che negli ultimi quattro giorni insomma i contagiati siano in flessione, se si continua così si rispetta la tabella di marcia e quindi anche per l'Ippica c'è la speranza di poter correre abbastanza, ti virgolette, presto, poi vediamo se porte chiuse, porte aperte, insomma almeno si spera che si possa ricominciare l'attività. Ecco, io hai centrato subito l'argomento, uno dei motivi per cui ti ho voluto chiamare è anche un po' per parlare di Ippica chiaramente, no? Voi come Milano è stata abbastanza travagliata questa prima parte di 2020 e a quella crisi che c'era se ne è aggiunta un'altra decisamente più grave. Ecco, non so, non ti chiedo di far previsioni, no? Ma a Milano come vi state comportando come ufficio tecnico? Avete pensato a qualcosa? Che idea avete sulla ripartenza eventuale quando ci sarà? Noi abbiamo pensato a tutto, nel senso che tu mi hai chiesto come occupo il tempo, insomma comunque ho prontato tutta una serie di scenari possibili e immaginabili sull'eventuale inizio. Infatti era subito stata pubblicata una prima bozza del programma dal 4 aprile che era appunto la prima scadenza delle ordinanze, poi è stata prorogata fino al 15 di aprile, credo che abbiano mandato anche proprio in queste ore appunto questo tipo di data per un eventuale inizio, che in questo momento teoricamente sarebbe addirittura un'ipotesi di cominciare il 15 aprile, poi è chiaro che è molto inverosimile e quindi abbiamo tutto approntato, diciamo così, una serie di possibili inizi. L'inizio che io personalmente auspico e insomma vado un pochettino anche seguendo il flusso del contagio, credo che a maggio, primi di maggio, possa essere un'ipotesi di inizio, ti ripeto e spero che sia così perché in quel momento lì avresti comunque il tempo come settore, come nazione di riprendere in mano tutta la programmazione classica, chiaramente dilazionandola, ma comunque salvando ancora tutto evidentemente. Andando più in là diventa complicato, diventa molto complicato. Ecco, l'ipotesi principale, migliore, ottimistica è quella di ripartire a maggio, però ecco c'è il rischio che si debba andare davanti, parlando con qualche esperto, non voglio fare nomi perché poi ci siamo confrontati anche privatamente con altre persone, c'è chi dice che bancherebbe tranquillamente a 100 il derby a metà giugno, la ripartenza a maggio significherebbe le derby a giugno e questo lo trovano molto difficile. Ecco, tu conosci la posizione in generale della proprietà di Milano, cioè proseguire fino a luglio potrebbe essere un'ipotesi o no? Assolutamente sì, forse mi sono perso col tuo discorso, nel senso che non ho capito se le derby a giugno lo bancano perché sono sicuri che non si possa fare o quasi sicuri, insomma, adesso ci va per ipotesi. Lo giocheresti a 100? No, lo bancherei. No, una cosa che non ho capito, perché pensano che non si riapra prima di 20 giugno. di 20 giugno? Prima di giugno, certo. Ah, quindi secondo questa ipotesi lo sport riapirebbe solamente a giugno, più in là. È un'ipotesi, è un'ipotesi. Allora, su questo io scommetto sempre ragione veduta, mai a caso, quindi in questo caso non si possono fare scommesse perché sono solamente le azioni. Io credo seriamente che solamente nella prima metà, diciamo così, nella prima settimana di aprile, quindi due settimane a partire da oggi, con dei dati un pochettino più certi circa il contagio, si può cominciare a fare qualche tipo di previsione, ma ad oggi in questo momento vale veramente tutto. Si può pensare che si apra il 15 aprile, si può pensare che si apra il 15 agosto, per cui non c'è assolutamente nulla di certo, ma per niente. La cosa che invece penso io, che mi fa un po' ben sperare, è che comunque l'IPICA è stata inserita nell'ultimo decreto come un'attività necessaria e qualcuno paventava una ipotesi purtroppo che potesse diritto essere un'attività non necessaria e questo aveva comportato dei danni gravissimi e pesantissimi. E quindi questa sensibilità che per una volta il Ministero ha dimostrato di poter avere in maniera seria e forte nei confronti dell'IPICA possa essere anche una specie di passepartout per poter magari cominciare. Io della mia ipotesi ripeto, che non mi sembra un dato particolarmente ottimistico, ma un dato abbastanza certificato da un ipotetico, ripeto siamo sempre nell'ambito dell'ipotesi, curva del contagio, magari riaprire il primo weekend buono di maggio, che a questo punto sarebbe il 4 maggio, perché il primo maggio lo lasci perdere ancora perché altrimenti la gente va in giro eccetera, il 4 maggio è prima data utile per correre, magari fai due settimane a porte chiuse, magari fai anche un mese a porte chiuse, per dire, in modo che se si cura al 100% però a questo punto anche a maggio si corre. Il fatto, ti ripeto, che abbiano messo l'IPICA come attività necessaria può essere una buona leva su cui poter agirare anche politicamente. Vediamo che succede, io personalmente ho formulato un'ipotesi un po' strampalata, fantasiosa, mettila come vuoi, ma essere semplicemente un pur parler, visto che comunque ne abbiamo tanto di tempo a disposizione per ragionarci, che proprio dovesse andare male, male, male la stagione e dovessimo, per ipotesi, riaprire direttamente nella stagione dopo agosto, per intenderci, l'ipotesi sarebbe quella di salvare le classiche in qualche modo perché selezione si deve fare, ma non si può andare oltre i primi di ottobre in quel caso. Non so, vi siete preparati a questo scenario o per ora non è contemplato? Assolutamente no, è un scenario che non voglio neanche prendere in considerazione, perché sarebbe veramente una roba assurda e impensata. Invece rispondendo alla tua domanda, che non me la sono dimenticata, Milano comunque presuppone il fatto di correre almeno fino a metà luglio, questo assolutamente. Poi sono anche lì discorsi che valgono per il tempo che trovano, però è un'ipotesi che si prende tranquillamente in considerazione. Chiaramente in quel caso non si inizieranno le corse alle tre di pomeriggio, ma credo che si inizieranno più tardi. E ti dico anche che dalla seconda parte di giugno in poi, magari, ma su questo è la mia idea, bisogna ancora confrontarci, poi si può pensare di correre due volte alla settimana. Quindi fai magari giugno, quando non è ancora aperto Varese, fai sabato o domenica e nelle due settimane a questo punto in cui si correrebbe a luglio, si potrebbe, ma ripeto questa è la mia idea, quindi vado proprio con le cose personali, si potrebbe correre il mercoledì e la domenica per evitare di occupare sabato, che sarebbe già a disposizione di Varese. E in quel modo penso che anche dal punto di vista della programmazione non ci sarebbero comunque, insomma, delle sole apposizioni, perché a quel punto Milano finisce sempre con delle corse di un certo calibro. A quel punto Varese, se intelligente, ma non dubito questo, potrebbe tranquillamente aprire in maniera un pochettino più soft e poi continuare. Le prime corsi importanti a Varese sono Guider Molli, con l'endica principale, e c'è anche il Benetti, se non vado errato, che sono due l'endica principali. A questo punto Milano ovviamente non fa la corsa uguale, ma quello che lo lascia libero, in modo che tutti i cavalli di quella categoria possono comunque andare avanti bene in tutto il percorso. Ma io mi spingo oltre, ripeto, sempre partendo da maggio, io credo che Milano e Roma possano avere tranquillamente tutto il tempo per poter impostare un calendario molto ben equilibrato. Anzi, a quel punto verrebbe addirittura meglio rispetto al normale periodo dell'anno, perché a quel punto gioco forza andresti con tutte le giornate importanti a distanza di tre settimane l'uno rispetto all'altro. E quindi i cavalli di quella categoria lì hanno già il programma fatto. Chiaro che rientreresti, parliamo ad esempio di tre anni con una prospettiva parioli, rientri in listed e vai a fare subito per la regione dopo tre settimane. Chiaro, rientrare in listo, eh ma uno rientra in listed, grazie, cosa vuoi fare? Rientri in listed e poi vai avanti tranquillamente, insomma. Gli anziani potrebbero partire con, non so, Signorino Natale di Roma o Circo Massimo, Presidente, Ambrosiano, Vittadini e Milano. Tocco, giusto un ipotetico programma. Io per esempio ho lanciato un po' una provocazione in tal senso, fermo restando che salverei ovviamente la stagione classica per intero, per ovvi motivi. Fermo restando qua stiamo parlando di cose futili rispetto a quello che sta succedendo nel nostro paese, ma chiaramente dobbiamo pensarci entrando e dando per scontato che a un certo punto ne usciremo, perché è chiaro che ci sono problemi molto più grandi dell'Ippica tutto sommato e se un anno dovesse saltare in albodoro di una classica, amen, se questo purtroppo sarà lo scenario. Però insomma stiamo cercando proprio di creare fuori questo. La mia idea era che, visto l'accorciamento anche quest'anno del Milano che era prevista a 2.000 metri e avendo una corsa, tra virgolette, fotocopia nel Repubblica, così come tutti gli altri segmenti, quindi gli sprinter, i due anni, le femmine, i miler, accorpare magari tutti in una corsa, cioè tra Repubblica e Milano farne una e mettere insieme. No, io non sono affatto d'accordo, anzi, proprio come l'ha appena detto, se il Presidente della Repubblica, faccio un esempio, si corresse serenamente il 31 maggio, in Milano il 12 luglio, hai tutto il tempo del mondo per metterci in mezzo a Ambrosiano. Ma guarda, ma proprio andando a questo percorso... ...è ampissimo di quel tipo di segmento, considerando che dall'estero non penso... No, l'estero credo che quest'anno sia proprio complicato spostarsi, anzi lì, come ha detto Patton, dovrebbe in maniera molto intelligente dire, ok, quest'anno vada come vada, rating e quant'altro, non ne teniamo conto perché è evidente. Però, vi ripeto, visto che si parla fisicamente, prendo il calendario, ma non devo... ma c'è un trattore, non conosco il calendario. Esempio, gli anziani rientrano, diciamo signorino, a 1.800 metri. Tre settimane prima del Presidente della Repubblica andremmo al 31 maggio. A questo punto aspetti tre settimane e puoi fare Bereguardo 1.600 metri e Ambrosiano 2.000 metri, quindi chi fa il Presidente ha l'opzione, si accorciano all'allungare, aspetti altre quattro settimane e fai Vittadini 1.600 metri, quindi Bereguardo prepara Vittadini e siamo a un mese di distanza, quindi ci sta tranquillamente, e poi Ambrosiano e Milano a un mese di distanza. Quindi direi che il tempo c'è tranquillamente. Addirittura in mezzo, visto che ballano appunto quattro settimane, magari in mezzo ci metti la condizionatina giusto per dei cavalli di fascia intermedia che possono andare a puntare poi al Gran Premio. Quindi non credo che da questo punto di vista ci siano problemi. Ripeto, partendo a maggio. Il problema che io mi pongo partendo a maggio è questo, che ovviamente i cavalli adesso sono tutti rallentati, più o meno, perché è inevitabile che adesso non stiano andando forte, e per un allenatore sapere che poi si corre, chiaramente serve accendere il motore dei cavalli, quindi cominciare una preparazione che possa essere almeno di due settimane. Per partire a maggio significa che gli allenatori devono saperlo almeno a metà aprile. Ecco, a metà aprile si saprà. Guarda, perché io dico che il 4 maggio potrebbe essere la data giusta? Perché in questo momento qua c'è solo l'unica cosa certa che fino al 15 aprile sia avanti così, no? Perché l'ultima, la data di scadenza delle ordinanze è il 15 di aprile. Quindi fino al 15 aprile siamo così, l'unica cosa sicura. A quel punto, seguendo quello che stanno facendo fino adesso, perché fino adesso hanno sempre posposto le due settimane la scadenza dell'ordinanza, sempre tendenzialmente una settimana prima. Quindi questo cosa vuol dire? Che noi nella prima settimana di aprile possiamo sapere già in maniera, non dico certa, ma con un, diciamo così, un margine, se vogliamo, una percentuale di sicurezza piuttosto importante se veramente si può pensare di correre i primi di maggio o meno. Quindi a quel punto avresti tre settimane piene, se no addirittura qualcosa di più, perché il 4 maggio vuol dire comunque altre quattro giorni, tre settimane e mezzo fai per poter ripresentare i cavalli in attività. Poi è un momento particolare se rientri, che poi le liste per i cavalli da gruppo sono cose di rientro, quindi non è che devi essere già, anzi, a maggior ragione, mai come in questo caso la corsa di rientro serve per rientrare. E poi insomma è anche una sfida, dire sfida affascinante è troppo, però insomma è una bella sfida anche per gli allenatori, cioè è una brutta sfida per gli allenatori, ma è anche una bella sfida per testare le loro capacità di training in questo senso. Del resto se Dan O'Brien rientra nel 2000 Guinea e vince, non dico che possono farlo tutti, però questo è un anno eccezionale. Va bene, dai, senti, indipendentemente da discorsi d'accademia così, ti faccio domande molto più semplici, come stai passando il tempo? Un po' già me l'hai detto, non so se tu hai hobby particolari, che cosa stai facendo, se stai pensando, questo è un momento che utilizziamo anche molto, vorrei dire per stare con noi stessi, ma in generale per pensare, ma non voglio entrare sempre nel lato intimista, per carità, però insomma c'è qualcosa che stai facendo e che non avresti mai fatto perché ho berato di lavoro? Beh, io vabbè, a parte che il lavoro è la mia passione, quindi io sono molto fortunato da questo punto di vista, perché io dico sempre che pagherei per fare quello che faccio, mi pagano, quindi insomma la domenica, la prossima cosa fai? Devo andare a lavorare, continuate a vedere le corse, quindi godo come un matto, tu poi lo sei meglio di me, per cui figurati. Ma il dia di questo, a me io sono un grande appassionato di storia, mi piace molto la storia, sto avendo un po' di tempo in più per seguire, insomma adesso mi sto concentrando sul momento a cavallo tra le due guerre mondiali, per capire veramente il perché e il per come, già si sa, però insomma per scavare sulle motivazioni politiche, economiche e sociali per cui è scoppiata la seconda guerra mondiale, ho pescato un meraviglioso documentario di Henry Kissinger che aveva trasmesso la RAI un bel po' e quando la RAI era ancora a servizio pubblico vero, appunto proprio su questo argomento due puntate, nota polemica, dice finisco questo discorso, insomma due puntate meravigliose, no perché? Perché io comunque essendo laureato in lettere moderne, indirizzo comuniche e sociali, io la televisione l'ho studiata, è bellissima e ti posso assicurare che la RAI dell'inizio era veramente una cosa meravigliosa, era una televisione inarrivabile, poi è arrivato la tv privata, lì la RAI ha scelto di diciamo così andare in quale direzione e insomma, ma tantissime televisioni che ci sono adesso in RAI sono ancora confezionate benissimo, secondo me con lo spirito della televisione, insomma degli arburi della televisione, quindi adesso mi sto concentrando su questo, poi c'ho Age of Empires che è un gioco al computer meraviglioso, la sera guardiamo la signora, questo perché? Perché la signora mi ha rubato il televisore con Sky e quant'altro, si sta disintegrando tutte le serie possibili e immaginabili in lingua originale, in italiano e quant'altro, quindi non la vendo la televisione, anche se ce n'è qui un'altra, è lei la capa, quindi di sera però mi ha concesso la possibilità di vedere le cose insieme a lei, quindi di sera guardiamo le cose insieme, pomeriggio ognuno si fa i fatti su a distanza di tre metri di un rispetto all'altro e niente so. Va bene, senti, sempre preservando la tua privacy mi fai vedere il tuo, cioè qual è la tua stanza dei segreti, cioè è quella, il tuo ufficio, vogliamo dire così. Ok, allora, partiamo da qua, qui c'è un aspetto, così vedete, no? Vedete? Sì, sì. Vedete il muro? Vedete me adesso? No, così dovete vedere. Ecco, adesso il tuo muro, chi è quello? Quello è Kieran Fallon, questo è Mick Kinan con Fasliev, questo è Stephen Drown con quella grandissima cavallo di Queen's Logic che mi aveva regalato un sacco di soldi, questo invece è Thomas Richard Queen, questo è un quadro, questo invece è un piccolo reperto storico perché questo si vede bene? No? Sì, sì, allora, è un copertino di Roma Capannelle e già mi fa capire qualcosa, però dillo tu. Riuscite a vedere cosa c'è scritto qua? Sotto? Derby, 27 maggio 2001. Questo è il copertino, a questo qua si vede anche la dedica. Con simpatia Dario e Falbrav, oh che bello, questo è bellissimo. Questo è il copertino ufficiale di Falbrav di quando ha corso il derby e siccome ero a Roma e siccome io che avevo subito capito che Falbrav era un fenomeno, l'avevo anche giocato il bello Paciarottone, Vincente Piazzato, qualcuno di cui si dice non aveva il cognome, Stefano, ognuno mette il cognome come lui, me l'aveva dato a cinque e l'abbiamo picchiato due. E vabbè, questo è il mio angolino. Poi qui siamo, questo qua è l'ufficio di mia moglie che se l'è fatto a casa. E niente, questa è la massa, poi giù c'è il resto della casa e via. Basta, questo è quanto. Va bene, va bene. Il decoder inglese che è spento in questo momento delle corsi inglesi purtroppo è che devi fare. Che devi fare. Senti, invece come cronista fai qualcosa o niente? No, stai fermo, in pausa. Chiuso anche l'Irlanda, siamo tutti fermi, siamo tutti stand-by. Va bene, va bene Luca. Tra l'altro questa trasmissione ancora non ha un nome, non gliel'ho data, non so, visto che sei uno dotato di fantasia, glielo vuoi dare tu un nome, non lo so. Dario ha detto Candy Camera, ma non mi piace. No, io direi Covid Camera. Covid Camera, questa è molto buona. Camera Covid, come volete. Va bene, grazie Luca e buon lavoro, grazie per la tua disponibilità, a presto. Speriamo di ricorre il primo maggio. Vediamo, ciao, 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 ciao.